Salve a tutti, benvenuti, bentornati, come sempre vi invito a iscrivervi, lasciare un like, condividere, commentare. Avete mai pensato al tempo che passiamo sui social network? Ci sono delle app che praticamente permettono di monitorare il tempo che trascorriamo sui social network ogni giorno, ogni settimana, ogni mese. D'accordo? Avete mai pensato qual è il tempo giusto che noi dedichiamo, che dovremmo dedicare all'utilizzo dei social? Beh, un po' di tempo fa, prima dell'avvento dell'internet illimitato, potremmo mettere un inizio e una fine con l'avvio della connessione col modem e la disconnessione. Oggi non è più così, siamo perennemente connessi. D'accordo? Però c'è uno studio dell'Università della Pennsylvania che ha calcolato, questo nel 2019, quindi periodo pre-pandemia, quale dovrebbe essere il tempo giusto da trascorrere sui social network. In questo studio è da escludere la messaggistica, quindi la messaggistica di WhatsApp, la messaggistica di Facebook, quindi Messenger. Partiamo però da un presupposto. Come possiamo prendere un parametro di riferimento? D'accordo? Prendiamo come parametro di riferimento la vita di una persona normale, una persona che abbia un lavoro, d'accordo? E quindi anche una vita sociale. La giornata di tutti quanti è composta da 24 ore, questo è indiscutibile, e almeno 8 ore sono impiegate per dormire. Quindi ne rimangono 16. Poi ci sono altre circa 8 ore di attività lavorativa, e ne rimangono altre 8. A queste 8 dobbiamo togliere almeno 2 ore di attività che noi impieghiamo per mangiare, pranzo e cena. Dimenticatevi di utilizzare lo smartphone, ad esempio, mentre mangiate. Vedo certe scene al ristorante veramente pietose. D'accordo? Quindi rimangono 6 ore. In queste 6 ore dobbiamo fare anche altro, tipo 30 minuti almeno al giorno di attività fisica, attività motoria. 30 minuti di camminata per stare bene. Ed è curioso come il tempo giusto, sano, di utilizzo dei social network, secondo questa ricerca dell'Università della Pennsylvania del 2019, sia 30 minuti al giorno. Quindi per quelle 6 ore, 5 minuti all'ora. Voi, quanto tempo da scorrete sui social network e soprattutto pensate che 30 minuti al giorno siano più che giusti, necessari? Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!